Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di domotica che potrebbe essere l'ultimo, non lo so voi mettete pollici in su, condividete questi video ma la serie sta andando abbastanza a scemare ma volevo assolutamente parlare di come mettere Home Assistant, il sistema operativo e tutto quanto del Raspberry su disco SSD quindi ho comprato un economicissimo adattatore da SATA a USB non ho preso uno di quelli fatti apposta per Raspberry con la presa USB angolata di 90 gradi e le vittine che si fissano e la ventolina costano un botto per niente questo qua mi sembra di averlo pagato tipo 8 euro e va benissimo per quello che ci serve quindi un SSD SATA, anche piccolo tanto stiamo andando a sostituire una scheda microSD quindi lo spazio non ci serve perché mettere il sistema operativo su un SSD? perché è molto più resiliente a continue letture e scritture il problema delle schede SD è che si corrompono abbastanza facilmente soprattutto se ci resta in esecuzione un sistema operativo come nel caso del Raspberry e quel sistema operativo continuamente a livello di sistema ha dei piccoli servizi che fanno delle piccole letture e scritture insomma la scheda SD non è come in una macchina fotografica che magari registra anche un'ora, un'ora e mezza di seguito però poi basta sul Raspberry invece passa ore, 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 giorni, giorni, settimane, mesi sempre a leggi, scrivi, leggi, scrivi, leggi, scrivi migliaia di volte al secondo e quindi chiaramente si degrada molto peggio che non un SSD che è fatto per portare il sistema operativo di un computer e quindi sicuramente ci dura molto di più connettore SATA, così si infila e da questo lato ho la USB che adesso utilizzerò qua sul Mac posso utilizzare sul Raspberry ma prima facciamo una cosa importantissima perché per sostituire la scheda SD con un SSD dovremmo andare a reinstallare da zero Home Assistant purtroppo sì e voi direte ma io sono mesi che ci perdo a seguire i tutorial tuoi per volte ho già configurato tutto una domotica bellissima col cavolo che adesso lo reinstallo da zero non preoccupatevi reinstalleremo da zero solo il core e dopo migreremo tutto quello che abbiamo fatto in tutto questo tempo quindi vado un attimino sul supervisor dove in teoria abbiamo il plugin che mi fa il backup su Google Drive in automatico ogni tre ore eccetera eccetera ma nel dubbio me lo faccio proprio un bel backup fatto bene e me lo scarico a 18 ore fa in teoria ha fatto la sua istantanea direi che ne facciamo una a mano adesso di tutto quanto la chiamerò migrazione SSD istantanea completa tutto quanto yes istantanea completa molto bene ora posso andarmela a scaricare me la vado a salvare sul Mac giusto per essere sicuro di possederne la copia anche perché tra un attimo i raspberry morirà e poi andiamo a spegnere per un'ultima volta il nostro raspberry oppla arresta ma prima una parola dallo sponsor del nostro video che sono i righelli di overvolt? no però è PCBWay che ha reso possibili questi righelli PCBWay che è un multiservizio perché in realtà loro hanno PCB nel nome ma fanno di tutto perfino stampa 3D se non avete una stampa di 3D a casa o volete qualcosa di fatto in maniera professionale per dire ma chiaramente PCB PCB normali PCB con componenti SMD anche già saldate mettono la foto di esempio sul sito di un raspberry addirittura PCB stencil se volete divertirvi a mettere giù voi la pasta saldante PCB di tutti i tipi sia più strati sia anche PCB strane tipo le PCB flessibili per applicazioni ad esempio wearable fanno veramente un botto di roba a ottimi prezzi e nel processo di fare i miei righelli ho veramente apprezzato quanto siano attenti al cliente e quanto mi dicessero ogni pulsante che in fabbrica premevano sulla macchina per fare le PCB me lo scrivevano avevo una progress line dettagliatissima di tutto quello che stavano facendo e mi è trippato troppo fighissimo quindi se nella vostra vita da maker avete bisogno di PCB assolutamente link in descrizione PCBWay in questo momento è anche scontata invece la parte di stampa 3D link in descrizione molto bene penso che sia il momento di dirvi effettivamente una cosa importante che è che questo metodo che vi spiego oggi è compatibile solo con i Raspberry P4 non con i Raspberry P3 perché il Raspberry P4 ha una boot EEPROM c'è una EEPROM dedicata al boot che adesso tra un attimo andremo ad aggiornare e che ci permette praticamente in maniera diretta senza fare casini strani di avviare il sistema operativo da USB dove la USB sarà rappresentata poi dal nostro SSD però il Raspberry P4 può farlo o il Raspberry P3 no però dobbiamo fare degli aggiornamenti sulla EEPROM quindi andiamo a scaricare un attimo Raspberry OS come si chiama sì POS mi basta quello con desktop in realtà potrebbe bastare anche quello light facciamo che lo scarico col desktop perché non sono sicuro di riuscire a far funzionare l'SSH tanto sarà solo un download leggermente più lungo consiglio di scaricarlo da torrent perché i server di Raspberry sono molto molto lenti e quindi qui selezionate download torrent e farete molto più in fretta nel frattempo controllate di avere balena etcher in teoria l'abbiamo già utilizzato al primo episodio però non sa mai che l'abbiate eliminato e procuriamoci una scheda SD possibilmente un'altra rispetto a quella che usavamo per Home Assistant giusto per sicurezza quella di Home Assistant finché non sono sicuro di essere riuscito a ripristinare il backup sano e salvo sulla nuova installazione che sarà qua quella lì non la tocco volendo potete anche andarla sovrascrivere però dovete essere sicuri di aver fatto il backup fatto giusto e che tutto funzionerà questa qui è la scheda SD che utilizzavo per Home Assistant la tengo un attimo da conto che se qualcosa va storto durante il processo prendo questa la ricaccio dentro Rosemary e tutto come prima quindi intanto mi preparo quella nuova controllo che sia una scheda SD vuota questa scheda SD si chiama libera quindi immagino che sia libera il download ha finito molto bene andiamo a prendere lo zip e a trascinarlo su balena etcher opla selezioniamo la mia scheda libera e ci installiamo Raspberry OS glisso un po' su questi passaggi perché episodio 1 di questa serie domotica ho spiegato proprio queste cose ok molto bene flash complete non so se il Mac me la legga no non me la legge fantastico ah no no ok 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 ce l'abbiamo ce l'abbiamo dovevo solo andare su utility disco del Mac è un'applicazione di sistema e premere attiva qui vedete dove adesso c'è disattiva per qualche ragione la partizione boot qua era disattivata l'ho selezionata ho premuto attiva e adesso nel finder la vedo e posso smanettarci nei file posso smanettarci e posso crearmi un nuovo file lo creerò con un reach notepad e cose varie voglio andare a creare dentro la partizione boot un file che si chiama ssh tutto maiuscolo ssh senza nessun tipo di estensione in questo modo il raspberry la prima volta che si avvia mi attiva l'ssh e non ho bisogno di averci un mouse uno schermo e una tastiera attaccati essenzialmente se no potete sempre usare il vecchio metodo mouse e tastiera schermo ma con l'ssh attivo è più comodo molto bene espelli boot perfetto togliamo la scheda sd la vado a mettere nel raspberry nel dubbio gli vado a togliere la chiavetta zigbee e accendiamo i raspberry così con raspberry os in teoria adesso se io dessi un'occhiata nella mia rete lan a quali sono i dispositivi connessi dovrei vedere comparire il raspberry sicuramente visto che ha un cavo di rete attaccato perché se no se siete via wifi dovete anche mettergli un altro file che si chiama ifconfig con nome utente e password comunque cercate su google e trovate come compilare un piccolo file da mettergli dentro la scheda sd prima di darla a raspberry in modo che lui sappia già a quale rete wifi connettersi troppe variabili in questo video eccolo qua raspberry p trading cose varie perfetto ok l'indirizzo p è questo qua 192.168.100.33 mi interessava giusto saper questo aprirmi un terminale se siete su windows non avete bash dovete installare putty anche scaricarlo portable comunque un qualsiasi programma che vi permetta di avere l'SSH L'SSH l'utente è p chiocciola 192.168.100.33 accetta tutte le chiavi che vuoi la password dell'utente p dovrebbe essere raspberry perfetto e sono logato nel raspberry questo qua è tutto per evitarsi di attaccare un mouse una tastiera e uno schermo raspberry se no se avete abbiato il raspberry con lo schermo basta che poi da lì aprite il terminale e siete a posto qui adesso sono su un terminale all'interno del mio raspberry primissima cosa da fare è sudo raspi trattino config sono le impostazioni del raspberry devo andare ad abilitarmi l'SSH in maniera definitiva perché con quel file noi lo attiviamo una tantum ma poi lui al momento del primo avvio vede quel file ci apre l'SSH però quel file lo elimina e quindi appena arriviamo il raspberry in pratica perdiamo l'accesso se vado sulle impostazioni di interfaccia vado su SSH vuoi che l'SSH sia abilitato? yes ora siamo sicuri di poter rientrare tutte le volte che il raspberry si riavvia poi dobbiamo andare a modificare un file di sistema quindi sudo per essere amministratore se no non abbiamo i permessi nano che è il programma per modificare file il percorso del file è barra etc barra default barra rp trattino aprm trattino update comunque se permette tab vi autocompila le cose quando avete scritto abbastanza caratteri invio ok andiamo a modificare c'è una sola riga all'interno di questo file firmware release status uguale default invece di default vado a cancellare default e vado a mettere latest latest che vuol dire l'ultimo ctrl x per uscire y per dirgli di salvare invio e siamo fuori a questo punto sudo apt spazio update e il raspberry a questo punto o meglio il gestore di pacchetti apt va a controllare sui server tutte le ultimissime versioni di tutto il software insomma si fa giusto una lista dell'ultimo software disponibile mi dice che 38 pacchetti possono essere aggiornati e noi aggiorniamoli sudo sempre per essere amministratore apt full trattino upgrade adesso faccio invio e lui comincerà ad aggiornare cose se si ferma a chiedervi vuoi continuare basta che premete invio e lui va avanti attenzione che se non andate prima a modificare quel file quel etc default rp aprom update se non lo modificate lui comunque aggiornerà cose perché sicuramente quando installate raspbian ci sono programmi da aggiornare però non aggiorna la aprom che è quella che ci serve a noi un po' di download un po' di cose è entrato dentro un v ma c'è scritto premi q per uscire q quindi voi fate sempre quello che chiede e vedrete che arriviamo a fine aggiornamento ok diamo un sudo reboot per riavviare ovviamente mi ha chiuso la connessione perché si sta riavviando io lo aspetto al varco ok eccolo qua raspberry è la password e il sistema operativo dovrebbe essere aggiornato adesso se vado a dare questo comando sempre da amministratore quindi col sudo sudo rpi trattino eprom trattino update invio dovrebbe dirmi a che aggiornamento è la versione della eprom insomma se la data è successiva al 11 dicembre 2020 siamo a posto qui la vedo al 29 aprile 2021 quindi perfetto abbiamo avuto successo a questo punto torniamo in sudo raspi config e facciamo una cosa del genere andiamo nelle impostazioni avanzate innanzitutto andiamo su versione del bootloader selezioniamo latest questa qua e quando mi chiede se resettare la bootrom a default invece diciamo di no opla e mi dice non resettate controllate che ci sia un non qua perfetto a questo punto torno nelle impostazioni avanzate vado su boot order come se fosse un bios vado su usb boot che adesso dovremo avere cioè avvia dalla usb seleziono boom e mi dice la usb adesso è il dispositivo di boot predefinito quindi se trova un disco usb avvia il sistema operativo da quello se no ricade sulla scheda sd invio a questo punto con la freccia destra vado su finish mi chiede se voglio fare un riavvio chiaramente è necessario per modificare delle impostazioni così a basso livello quindi gli lasciamo fare questo riavvio in modo che lui applica tutte le nuove impostazioni e dopo appena si riavvia lo spegneremo semplicemente eccolo qua raspberry e gli dico sudo shutdown si ma vuole farlo tra un minuto no va bene facciamo sudo shutdown now spegniti ora e posso uscire dal mio terminale oppure se siete su windows con putti chiudete putti insomma possiamo uscirne con il nostro raspberry p os abbiamo finito gli do giusto qualche secondo per spegnersi poi gli tolgo l'alimentazione gli tolgo la scheda sd che a questo punto non ci serve più potremo anche lasciargliela come fallback ma tanto non ci interessa d'ora in poi la priorità di boot è la ssd e la ssd tra poco lo troverà sempre chiedo scusa non mi avete visto negli ultimi minuti perché si era morta la fotocamera una volta spento il raspberry l'ho spento anche dall'alimentazione cioè gli ho tolto il cavo usb gli ho tolto la scheda sd che a questo punto in teoria non ci serve più perché lui si avvierà dal nostro disco ma parliamo del nostro disco dobbiamo andare a installarci chiaramente il sistema operativo che contiene anche home assistant e tutto quanto come abbiamo fatto nel primo episodio solo che nel frattempo visto che il primo episodio era un po' di tempo fa le cose sono cambiate nel frattempo però in realtà è ben o male uguale comunque vado a connettere il mio ssd al computer sono sul sito di home assistant adesso praticamente non ti fanno più scaricare uno zip e dopo con balena etcher flasharlo sulla tua scheda sd sul tuo ssd su quello che vuoi ma ti fanno fare flash from url vabbè cambia poco raspberry p4 64 bit qui non cambia niente semplicemente una volta che apro il mio balena etcher invece di dirgli flash dal file di trascinarli dentro lo zip gli dico flasha da un url lo incollo quello che ho copiato qua dal sito gli faccio ok e lui in teoria si scarica questo zip automaticamente da internet poca differenza il nostro target è il mio ssd che è da mezzo tera assolutamente overkill seleziona e vado a fare flash mi dice attenzione stai flashando tipo pochi mega di sistema operativo su un disco da mezzo tera sì sono sicuro purtroppo e avete già intuito la faccenda come va a finire installiamo un assistant come se fossimo nel primo episodio lo avviamo configuriamo giusto un utente e dopo ripristiniamo il nostro backup e tutto quanto dovrebbe tornare al suo posto il mac si arrabbia io gli dico ignora disconnettiamo tutto il disco si può espellere in maniera sicura opla lo connetto usb al mio raspberry a una porta usb 3.0 visto che ci sono diamo fuoco alle polveri o meglio diamo corrente al raspberry e nel frattempo mi recco su homeassistant.local 2.8123 la vedremo piuttosto spoglia chiaramente ci mette un attimo se vi ricordate ad avviarsi la prima volta uh ok ho dovuto scrivere una seconda volta perché la prima per qualche ragione si era corrotto un po' nella scrittura non lo so non funzionava insomma comunque il riscritto ora funziona che carino hanno cambiato la pagina adesso ci sono queste cose che si creano e si spostano vabbè molto interessante lui deve rifarsi il download di homeassistant perché è proprio un'installazione fresh allora cosa molto importante qui ci chiede nome non utente password nuova password eccetera dice oppure in alternativa è possibile ripristinare un backup ecco non usate questa cosa qui non usate questo ripristinare il backup perché dicono che sia buggato dicono che rischia di corrompere tutto di perdere i dati di fare un casino quindi noi adesso ci faremo una veramente installazione pulita di homeassistant e dopo il backup lo andremo a ripristinare da supervisor quindi mi chiamo sempre marco il nome utente va bene questo per comodità mi metto stesso utente e stessa password di prima in teoria tutta questa roba dovrebbe venire sovrascritta però nel dubbio non ci metto niente a impostarmela perché l'ago trasimeno non sono proprio lì va bene qua mi chiede di installare roba ma chi se ne frega non la installo perché tanto ne abbiamo già tutto configurato si tratta solo di ripristinare il backup quindi facciamo subito una corsa nel nostro supervisor andiamo su istantanee e ora si possiamo caricare come si fa? beh si va nel menu qua in alto tre pallini invia istantanea mi farà scegliere il file che io ho salvato prima eccolo qua migrazione ssd mi ripristina tutti gli add-on le directory tutto quanto e se tutto è andato bene abbiamo fatto tutto giusto in teoria premendo ripristina tutto dovrebbe avviarsi il processo di reinstallazione di tutta la nostra baracca di home assistant vedremo subito home assistant a spegnersi vedete che ho perso la connessione e ci metterà un buoni 5-10 minuti quindi non abbiate fretta lasciategli il suo tempo sta funzionando non preoccupatevi però ci mette un po' a ripristinare tutto a riattivare i vari plugin e cose varie e questo è il risultato ok abbiamo tutto quanto funzionante o meglio sì molto bene in teoria dovremmo avere anche i plugin funzionanti non so ad esempio gli snapshot di google drive dovrei vedere tutti gli snapshot di google drive anche quelli che ho fatto 20 giorni fa per dire cioè anche quelli antecedenti al mio cambio da scheda sd all'ssd di oggi insomma drive dovrebbe accorgersi che ci sono i vecchi backup dovrebbe essere tutto ancora configurato visual studio code se vado sul mio configuration punto yaml dovrei vedere le cose che avevo configurato tipo emulated hue tipo google assistant cos'altro beh se andassi sul supervisor dovrei vedermi tutti i plugin qua installati attivi quindi con l'icona già colorata perché sono in esecuzione posso controllare la configurazione di nginx posso controllare la configurazione di duck dns ragazzi abbiamo tutto quanto bello che funzionante ah beh impostazioni scene dovrei avere tutte le mie scene perfetto automazioni dovrei avere tutte le mie automazioni complimenti abbiamo con successo messo pollice in su al video quello non so se l'avete fatto però è il momento di farlo abbiamo con successo spostato il nostro home assistant trasferito da una inaffidabile scheda sd a un veloce prestante molto più affidabile molto più capiente in caso vogliamo magari salvare anche non so le registrazioni di telecamere di sorveglianza o cose più pesanti insomma tutte cose positive ssd prima di ssd metteteci qualsiasi aggettivo positivo che vi venga in mente e sarà un'affermazione giusta per quello che abbiamo fatto in questo video pollici in su ciao a tutti a ciao a tutti a